E adesso come ogni giovedì un'anteprima su quel che di bello ci riserva l'agenda degli spettacoli nei prossimi giorni. Vito Marinelli. Apriamo l'agenda di questa settimana con la musica leggera, il rock d'autore di Eugenio Finardi e di scena sabato 16 al canonico di Mola di Bari. Gran finale domenica 17 novembre al Teatro Forma di Bari per il Festival Time Zones. Sul palco il progetto Cinema Solorians con Marshall Allen e il trio del batterista americano Jim Black. Per i fans dell'India Rock questa sera al Circolo Arci di Brindisi parte il tour dei CFF e il Nomade Venerabile per la presentazione del nuovo album Attraverso. Infine per gli appassionati di funk e daisy jazz l'appuntamento è per sabato 16 con i Dirotta su Cuba al Moody di Foggia. Mercoledì 20 novembre al Petruzzelli di Bari si chiude la stagione 2013 con il Falstaff di Verdi per la regia di Luca Ronconi, direttore Daniele Rustioni. Sempre al Petruzzelli per la camerata musicale barese lunedì 18 concerto del violinista Stefan Milenkovic e della pianista Srebrenka Poliak. Per la danza sabato 16 al Teatro Team di Bari il Balletto del Sud in Carmen per la regia di Freddy Franzutti. E vi lasciamo con le fantastiche immagini della compagnia svizzera dei Moomenschanz, i musicisti del silenzio, al Teatro Orfeo di Taranto mercoledì 20 novembre.